Per Ilaria Alpi Giornalista di schietta bellezza e fresca intelligenza, viaggi per il mondo con il tuo tacquino ricoperto da sangue e verità. Il tuo giovanile sguardo ha il coraggio delle anime belle troppo salve per questo nostro mondo imperfetto. Ti rechi a tragici lidi, dove i tuoi limpidi occhi scoprono indicibili verità, le tue mani gentili carezzano i volti schiaffeggiati di innocenti bambini e vergano scomode parole per i furbastri del mondo, sempre alla ricerca dei più lucrosi traffici.